Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi analisi gameplay slittata a martedì però per una giusta causa infatti ieri vi ho portato la Competitive Stories in compagnia di Lucio Izers, campione europeo dell'ultimo torneo EA e oggi dopo diciamo quel video intervista introduttivo ci andiamo ad analizzare proprio una delle partite della Grand Final che ha giocato contro lo svedese Unsal e in particolare lui venendo alla loser bracket doveva vincere due scontri al meglio delle due e questo fa parte del primo best of due, quindi la partita di ritorno perché secondo noi era la più carina da farvi vedere vedete anche delle grafiche particolari perché queste sono le grafiche che utilizzo per commentare in live tutti gli eventi quando non ci arrivo insomma, quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere andiamo subito a cambiare schermata dove ci attende anche il buon Lucio in più ci tengo un attimino prima di cambiare schermata a dirvi che potremmo avere ogni tanto dei piccoli problemi tecnici perché il buon Lucio purtroppo non ha un wifi molto stabile quindi ogni tanto potrebbe frizzarsi però non evitare insomma di staccare e riattaccare eccetera eccetera cosa che già abbiamo fatto nella competitive story spero che grazie ai tagli abbiamo risolto quando si frizza insomma aspetteremo che che ritornerà io gli farò un segno farò e lui capirà che si è frizzato quando io lo rifaccio si è sfrizzato bene quindi non pensate che sono impazzito cambiamo schermata quindi come vi dicevo ed eccoci qua vedete in basso a sinistra anche Lucio ben trovato Lucio siamo sintonizzati ci sei tu sulla tua partita ecco subito è arrivato il primo freeze ok ti sei sfrizzato subito benissimo quindi direi che possiamo iniziare partiamo sincronizzati vai tu se non erro in maglia la solita maglia rossa giù no bianca stavolta giusto no io sono in bianco io ho le maglie di United e Real tra l'altro una curiosità che non ti ho chiesto mentre intanto vediamo che inizia a scorrere il match che il ritorno dopo che tu avevi perso 3 a 2 l'andata ma perché Idzers? eh storia lunga ti dico solo che era la fusione tra l'Earth che sarebbe il coso dell'elettricità e qualcosa che mi passava al momento è uscito così vabbè figo però ora lo posso spiegare ero piccolino cosa? figo figo però eh sì 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 perché era una cosa che ti volevo chiedere ieri però poi mi è sfuggito qua intanto subito gran giocata ad allargarlo come fai tu con questi tocchi rapidi bridge poi lui è stato bravo a muovere il portiere però sì ottima la giocata forse ho sbagliato io dovevo aspettare più composure più composure però voglio dire cioè ci stava non autoflagellarti più di tanto soprattutto che effetto ti rifà riguardata? l'avevi già riguardata o è la prima volta? questa l'avevo già riguardata onestamente però è sempre emozionante a volte perché vedi aspetta che ti sei un attimino bloccato ti dico io quando sei ritornato tra noi intanto commento qua questo contropiede vediamo se arriva ok ci sei dici? eh Matti perché penso a quel momento cioè dove alla fine mi stavo giocando una finale e quindi è tanta roba si pensa e dici vediamo dici come ho fatto a tenere anche questa calma a un certo punto sì perché insomma qua la partita veramente di quelle al cardiopalma sono passati 15 minuti e insomma hai fatto già capire che sta partita non gliela volevi lasciare lasciare in maniera molto molto facile lui secondo me sentiva un po' quella pressione di dire ok sono a 80 minuti dalla dalla fine dalla vittoria perché rispetto al primo game dove insomma ha giocato in maniera molto più offensiva lo vedevo un po' più compassato non forzava mai una giocata sempre la giocata sicura anche qui guarda con sto pelè come se è girato e rigirato senza mai provare un bridge un tunnel sai queste cose che adesso ti danno un po' di velocità è vero tu devo dire che tanti dicono che sei un mostro davanti però anche dietro sei bello pazzo difendi però molto bene qui l'hai chiuso veramente bene poi curiosità e mezzo spoiler per il video poi delle tattiche in cui andremo domani intanto qua bel gol di merda intanto continuavo a fare i suoi t-rex ho tenuto la aspetta ti sei un attimino frizzato e comunque qua veramente un gol ambiguo con sta sponda dentro l'aria che vai dici dicevi ho mantenuto la composure subendo gol del genere tutto tranne che facile in una finale soprattutto questo era anche l'ultimo match tra virgolette perché da qui o andavi avanti o era finita quindi una super freddezza comunque dicevo in difesa quanto utilizzi di profondità sette sette qua intanto gran gol questo lo voglio lo voglio rivedere con la lavagna tattica tra virgolette perché è vero che era un mezzo kick off si tu fermati un attimo eh sì kick off però qui davanti al portiere avere la freddezza di fare prima la suola poi il tacco tacco per prendere ancora campo e poi calciare quando ormai non c'era più spazio né per l'autoblock né per il portiere di prenderla era era veramente veramente difficile quindi tanta roba vai puoi ripartire quindi meno male che l'hai trovato subito stai a sette secondi sì 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 vai 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 ci siamo ci siamo ok qua era veramente dura perché meno male che sei ritornato subito in partita eh perché altrimenti psicologicamente dover risalire la china non era non era facile no ma ogni volta che sono stato subito di sotto di due ho subito ripreso quel gol sì infatti quel kick off me lo sono saputo giocare più sì te lo sei te lo sei saputo giocare bene ti sei frizzato un secondino perché appunto vuoi o non vuoi lo sappiamo che quando andiamo a battere c'è più possibilità di segnare poi quando vai due gol sotto in una partita del genere eh se riesci a ritornare subito in partita sei tornato tra noi è tanta roba e fa la differenza qua intanto mi aspettavo subito uno dei tuoi filtranti che ancora non abbiamo visto invece non è non è partito no no questa volta non era partito ma per quanto riguarda il fatto offensivo e difensivo ti do ragione cioè ma pensa che esclusa questa finale esclusa questa finale dove ho preso un po' di tanti gol su dieci game giocati c'è dieci game in totale ho subito come dieci gol l'undici gol in totale in ogni partita che insomma è composta da due game quindi veramente tanta roba in totale tra dieci partite undici gol perché ne ho subito alla fine un po' in questa partita che non lo spoiler e poi tipo da tom ne ho subito solo uno in due partite e da denis ne ho subito tre in due partite da ultimo in uno sì ma perché alla fine comunque tu difendi molto aggressivo molto aggressivo però è uno stile che come piace a me che paga cioè è uno stile di difesa che si è fatto bene perché un conto è difendere aggressivo e un conto è difendere male però se difendi aggressivo uscire con i tempi giusti paga qua intanto gran numero io questo me l'ero me l'ero perso veramente gran numero reverse elastico che adesso è una delle giocate migliori secondo me che c'è rimasta ti sei un attimino bloccato per girarsi all'interno dell'area di rigore secondo me è una di quelle skill che ci fa preferire ancora attualmente il 5 di skill rispetto al 5 di debole sei tornato intanto quindi qua veramente è un gran gollo questo no ma elastico e reverse sono importanti ora perché in alcune situazioni dove magari non riesci a segnare lì tipo magari se fosse andato nell'interno non me lo copriva invece in una qualifica quello non si aspettava che mi girava reverse il tiro di sinistro con Ronaldo e poi per me Ronaldo è un 5 piede debole sì Ronaldo quest'anno è clamoroso infatti pure nella squadra che ho fatto ora ho piazzato lui sulla sinistra e Mbappé sulla destra intanto qua bella palletta pure subito per Mbappé che arrivava mi sono inventato mi sono inventato il filtrante qua qua gli hai dato un filtrante praticamente che erano non così distanti cioè non erano a distanza di filtrante gli hai dato sto filtrante che arrivava sì perché soprattutto non essendoci questa gran distanza soprattutto c'era l'uomo davanti quindi hai sfruttato hai sfruttato il fatto che sul passaggio sono rimasti tutti e due piantati è arrivato Mbappé a rimorchio e bel gol bel gol quindi diciamo che già nel primo tempo ti eri rimesso subito la partita sui binari favorevoli e avevi spostato la pressione sul buon sul buon Unsal tra l'altro poi tu hai detto riguardando i messaggi eccetera eccetera io oggi sono entrato su Twitter abbiamo una chat con i pro di Xbox e mi si erano arretrati tanti messaggi e avevo letto che stavano facendo delle prediction su chi vinceva quando c'era stata la partita e avevamo detto tutti quanti easy win Unsal easy win veramente sì 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 vabbè che non ci sa che non ti conoscevano capito c'erano tanti dei bandled gli italiani oppure no 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 gli stranieri gli stranieri ah sì no vabbè però magari se avessero visto l'evento tutto non l'avrebbero pensato perché no ti ha visto tutto l'evento io all'inizio 0% mi avevano dato di tutto eh oh sì sì l'ho visto l'ho visto 0% arrivato in finale 54% io e 46% ho visto ho visto se erano insomma avevano cambiato un po' idea però ti ripeto su sta chat che ci sono tanti pro olandesi che stanno con i bandled eccetera eccetera dicevano che magari conoscendolo meglio però secondo me è una bella lezioncina al nostro al nostro amico gliel'abbiamo data intanto quanto questa l'altra l'altra finale ma non so se il risultato lo sai sì sì è stato praticamente il repeat della finale che è stata su xbox di un lemmaica presa pallata e tu 11 a 1 vabbè motivo per il quale ragazzi abbiamo deciso anche di portarvi questa perché c'erano più spunti oltre a farvi vedere come si gestisce l'essere sotto la pressione eccetera eccetera l'altra c'era anche lui che a un certo punto ha totalmente tiltato scuoteva la testa già sul primo gol della seconda partita era totalmente andato fuori di brocca l'avversario quindi è stato Lucio con il sangue freddo a killarlo diciamo ancora di più ma insomma lui ci ha messo pure del suo a uscire dalla partita anticipatamente nel secondo game secondo me qui forse se avessi aspettato un tempo di gioco con Renato avrei segnato probabilmente però sono cose che magari non ci fai proprio caso quando gli giocchi a mente fredda però te lo riguardi e dici magari la prossima volta che mi capita quell'occasione lì intanto ci hanno switchato sulla tua visuale adesso non so perché non me ne ero accorto di questa cosa sei già che non lo farai la prossima volta perché è difficilissima quella cosa magari se riuscissi a fare quella cosa uno si ne va che diventa proprio ad altissimo livello e lo fa costantemente perché quel tempo di gioco non è facile è quella cosa che ti scatta inconsciamente dentro il cervello che non dico che è memoria muscolare però è memoria selettivo cognitiva guarda qua ma si qua l'ennesimo gol brutto tra virgolette io che scuoto la testa e dico come cazzo se va tu scuoti la testa questo ci tiene a farti vedere tutta l'esultanza e insomma un po' così però dopo quel gogliatto di rimpallo sul primo altro rimpallo brutto tra l'altro ha fatto pure il gol della domenica a sto Cristiano Ronaldo base perché l'ha messa nell'angolino vabbè però se Ronaldo sbaglia gol da là ci posso stare il gol di Ronaldo lo accettiamo però è il secondo gol diciamo che viene da situazione un po' ambigua perché tu poco potevi fare lì no ma se la giunta è un rimpallo strano la palla si deve bloccare sul difensore la secondo me si assolutamente immagina che lui dopo mi ha scritto ha fatto eh non dovevo perderlo il primo ma per me si è stato fortunatissimo cioè nel senso non meritavo io di arrivare poi a vincerla così sudata la partita questa perché cioè i suoi gol sono molto 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 brutti i miei cioè sono azioni fatte bene pure questa filtrante epico questo lui sbaglia io vedo l'errore filtrante se importa lui è uscito altissimo qua qualche quando ti porti fuori il difensore selezionato eh lì lo butti dentro col filtrante o lo metti o la linea di passaggio arrivi a coprirla perfettamente o è inutile meglio scappare all'indietro sì perché passa sotto su sti cazzi sai che faccio Matteo aspetti sei un attimino bloccato poi ci sveli che cosa fai vai dici ci sei sai io in questo caso che faccio lascio difendere alla cpu tutto il tempo quasi tutto il tempo a un certo punto switcho e corro verso avanti però il difensore doveva arrivare più o meno sulla linea dell'area di ricore una volta arrivato sulla linea la palla la prende sempre il difensore cioè l'unico modo alla quale possa prendere l'attaccante è che lui si preme R1 e lo faccia tornare indietro è il consiglio che do in quel caso fate difendere dalla cpu certo questo è stato bravo qua ha fatto una bella giocata con questo doppio passo che secondo me è l'unico che effettivamente può avere senso che non è quello fatto con la mezzaluna ma è quello fatto laterale e poi buttato all'indietro per tornare indietro e qua ha trovato anche poi una buona imbucata una buona imbucata di Mbappé gran passaggio sì perché poi l'ha dato con X questo passaggio non conti non conti no ma poi il fatto è che magari ora non te lo aspetti quel doppio passo però magari tra un po' te lo aspetterai c'è una giocata che ha fatto che fa solo lui ora cioè è raro che vedi sto doppio passo infatti ha segnato pure a Tom così lui sì lui devo dire che comunque veramente bisogna fargli un plauso perché ha fatto un bel 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 torneo a prescindere da da tutto fino a quando è rimasto con la testa in partita ha fatto vedere ha fatto vedere belle cose si è bloccato un attimo pure contro Tom ha fatto una prestazione che io non non mi aspettavo soprattutto per quello che avevo visto in qualifica mi aspettavo che Tom contro di lui andasse sul velluto sei tornato intanto e quindi comunque tanta tanta roba ha dimostrato di essere anche io cioè anche io infatti non mi aspettavo Tom lì non mi aspettavo Tom in finale di user bracket però ti dico che Tom l'ha subita tanto la pace Tom pre pace era un altro giocatore io non riuscivo ad attaccare contro Tom pre pace lui attaccava che era un mostro poi invece ora non mi è piaciuto proprio non è un livello secondo me adesso Unzal invece era forte è stata una bella partita sì boh poi Tom io non l'ho visto giocare più di tanto sono stato anche fortunato sotto un certo punto di vista perché secondo me Tom non avrebbe perso due best of two ah dici nella finalissima sì ma ti ripeto lui ha scapocciato magari un po' l'ha fatto l'inesperienza perché comunque è il primo anno che compete a determinati livelli Tom magari sebbene abbia sentito la pace il primo best of due lo perdeva magari ti studiava poi prevaleva un po' l'esperienza magari perdeva uguale però sicuramente non scapocciava lui ha iniziato a impazzire già sotto 2 a 0 per dirti si è visto proprio sì sì no ma l'altra cosa aspetti aspetti si è bloccato un secondo intanto qua partita sul 6 a 6 quando mancano praticamente 10 minuti alla fine e lui cerca di sfruttare i minuti finali vuole arrivare praticamente al novantesimo per fare per fare l'ultima per fare l'ultima azione ok sei tornato dici altra cosa stavo dicendo io sotto un certo punto di vista anzi vedi qua vedi qua vedi qua prima vai commentiamo vai portava alla corona qua non si vedeva neanche dallo schermo a lui sto filtrante su un bappé suolata e di sinistro a portavota vedi lui qua già sta stampa si fa cose voleva quittare che cosa fa l'ha clipato qua veramente da applausi sto filtrante per me l'ho detto cioè chi avrà visto anche le altre partite al momento questa meccanica è fortissima e tu ne sei uno dei migliori interpreti e va sfruttata ragazzi ve lo dico ve lo diciamo che i filtranti al momento per rompere questi muri di cpu autoblocchi eccetera sono probabilmente l'arma migliore perché anche se voi fate scattare il giocatore ma non gli servite effettivamente il pallone sono spazi che vi si creano per l'avanzata dei centrocampisti degli esterni quindi è una meccanica che va usata è abusata ma si ma ci sta ma no comunque dicevo magari sono stato fortunato perché io lo vedevo che in questa partita aspetta è un attimo bloccato di nuovo intanto scorre scorrono gli ultimi ok sei tornato dici io lo vedevo che stava difendendo un po' male lui quindi diciamo appena ho vinto questa finale ho detto non è che ho detto ho sicuramente vinto pure l'alta però mi sentivo bello confident ho detto non devo avere paura devo giocare come so io perché vedevi che lui ti concedeva no vedevo che lui era più impaurito di me e non stava giocando bene magari Tom la non si fa prendere dalla paura e se lui non si fa prendere dalla paura magari la sento un po' più io perché dico è ancora un game sudatissimo e non mi posso sentire superiore invece con lui mi sentivo leggermente superiore prima tutto questo ma proprio guarda già dalla faccia qua lui era disperato cioè si vedeva che insomma proprio il mindset ormai era il suo finito in un tunnel e il tuo eri proprio bello bello on point e niente raga questa è stata ovviamente più rapida del solito per me è volata perché in compagnia è tutta un'altra cosa avete visto come insomma il livello di luce sia altissimo e come sia praticamente il maestro dei filtranti anche se ne avete visti solo due e io vi invito a recuperare anche le altre partite che ha giocato soprattutto nella finale quella di ritorno perché è veramente ne ha fatti di alcuni che sono sono delle invenzioni il consiglio che vi diamo ovviamente è quello lì di cercare di inserirla sta meccanica nel vostro gameplay perché perché serve tanto si è bloccato un secondino lucio così come alle volte paga come vi dico la difesa un po' più alta ok si è tornato che vi permette di recuperare palla alto e soprattutto recuperando palla alta potete innescare meglio i contropiedi soprattutto con questi filtranti o no no concordo tutto perché ormai il gioco è sulla velocità si deve andare veloce e se fai chiudere le squadre è finito quindi anche alla domanda quando chiedete quali sono i giocatori meta beh gli header no rega io ve l'ho detto che per me gli equilibri non sono cambiati pre post patch sempre i soliti Mbappé Ronaldo Neymar da punta io preferisco sempre Mbappé a Neymar perché va via di più in velocità un po' più fisico Neymar lo preferisco sull'esterno perché magari fa i passaggi meglio eccetera eccetera magari Matteo ora giusto se sono bravi con la levetta e gli piace giocare da agilità consiglio di spostare un Ronaldo sull'esterno ma se andate di filtranti e comunque siete veloci di uno o due Ronaldo secondo me va lo stesso usato prima punta perché quando tira segna segna e poi pure di fisico in velocità con una finta di tiro in corsa prende mille metri di campo e niente ragazzi quindi per questa analisi è tutto noi ci vediamo di nuovo domani con Lucio per le sue tattiche che già lo so che è stata lì che non vedete l'ora quindi io ringrazio Lucio per avermi fatto compagnia again trovate come al solito in descrizione i suoi vari link è nulla ragazzi fate bravi mi raccomando un salutone ciao ciao ciao